Il Montepaone batte 1-0 un San Calogelo che però ha dimostrato sul campo di meritare l'attuale testa della classifica. Mister Romano, siete un po' come il Napoli e la Juventus a questo punto. Sì, diciamo che è un campionato avvincente, un campionato come si sapeva già dall'inizio molto equilibrato. C'è oggi il ramarico, nonostante noi abbiamo disputato una buona partita, forse alla fine il risultato più giusto secondo me per quello che si è visto in campo era un risultato di parità. Se non fosse successo quello che è successo, l'abbiamo visto tutti, voi vedete le telecamere, potete vedere un gol nettissimo con la mano. Quelle sono golle che devono essere un'altra perché anche i ciechi li vedono. E poi non dare un rigore sacrosanto, visto da tutti non lo so. Io non voglio dire, inferire, parlare sull'arbitro, l'arbitro è uno, siamo noi a Giudica, però stanno succedendo delle cose che sinceramente dispiace. Quando c'è una partita di così importanza, una partita che uno si gioca un campionato, io mi aspetterei un arbitro più all'altezza che oggi sarà che è una giornata storta, non lo so, non l'ha dimostrato per quello che si è visto in campo. Però due squadre che si sono date anche battaglia tattica, oltre che tecnica, l'ingresso di Rotella ha reso ancora più pesante l'attacco, si è visto, insomma, nel secondo tempo Rotella ha inciso parecchio. Sì, è giusto quello che dice lei. Noi purtroppo abbiamo il Monteleone, anche tutti e due, che sono un pochettino la condizione che tutti conosciamo. Hanno avuto problemi durante la settimana, non si sono allenato bene per problemi febbrile. E quindi hanno un pochettino... Sono stato sotto tono e ho cercato di mettere il quarto attaccante per cercare di recuperare la partita. Non è stato possibile, anche se abbiamo avuto qualche occasione, però sinceramente per quello che hanno dato i ragazzi, per tutto quello che è stato, io penso che, a vista di tutto, un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Anche se il Montepone non ha rubato nulla, bisogna essere pure onesti. Loro si sono impegnati, hanno cercato di imporre il proprio gioco. Ma secondo me, due squadre che si sono equivalsi alla fine della partita, il risultato doveva essere un pari. Comunque il campionato ancora è lungo. Noi sappiamo che dobbiamo lottare tutte le domeniche. Noi siamo una società che le nostre ambizioni all'inizio non erano quelle di vincere il campionato. Andando avanti, con sacrifici, con applicazione, un grazie particolare a questi ragazzi che si stanno impegnando durante la settimana. Io penso di averlo dimostrato sia qua, sia alla Mezzia, in tutti i campi dove siamo andati, di meritare il posto che occupiamo in classifica. Abbiamo cercato un'incursione negli spogliatoi, ma mister Pisano ci ha fermato come se fosse il miglior Conidi. Una vittoria importante. Dicevamo a mister Romano, siete un po' come il Napoli e la Juventus. Mister Pisano, in Serie A per chi tifa? A me piace vedere le squadre che giocano a calcio in Serie A, quindi non tifo particolarmente per una squadra. Quindi ovviamente in Serie A la squadra che mi divertirà più è il Napoli, perché credo che sia evidente a tutti che giochi il miglior calcio. Molte volte però ovviamente il bel gioco non collima con la vittoria, e quindi credo che se si dovesse riuscire nel trovare il giusto equilibrio tra le due cose credo che si raggiunga un grande obiettivo. E quindi il Montepaone deve recuperare una partita ed è un punto dietro il San Caloggio. Possiamo parlare di primo posto virtuale? No, assolutamente. Noi abbiamo una partita da recuperare, è vero, ma è una partita molto difficile perché dobbiamo giocare contro il Bivongi. Oltretutto era una domenica in cui magari si riposava e quindi avremmo potuto ricaricare un po' le batterie. Invece ci toccherà giocare, ma noi ovviamente cercheremo innanzitutto testa sabato perché abbiamo una sfida difficilissima a Mammola e poi guarderemo come abbiamo fatto finora partita per partita. E oggi è stata la vittoria del carattere oltre che della tecnica con un Marcellino in Graspolvero ma anche un Salvatore Procopio che ha fatto di tutto in avanti. Sì, ho difficoltà a parlare dei singoli come sempre perché comunque ho visto una squadra che si è aiutata molto tra di loro. Noi sapevamo perfettamente che era una partita difficile perché era il punto fondamentale di una stagione che portava a culminare una rincorsa a cui forse non ci credeva nessuno, aveva molti punti di ritardo. E quindi adesso bisognava tenere i nervi saldi e cercare di esprimere le nostre potenzialità. Credo che i ragazzi l'abbiano fatto. La partita è che è attrazzata anche un po' spigolosa però visto la posta in paglio penso che sia normale. Però devo fare un applauso a tutti i ragazzi ma sinceramente non abbiamo completato nulla perché abbiamo semplicemente portato a termine una rincorsa quasi ma c'è troppo ancora da fare.